a quel tempo avevo per amante una donnina curiosissima era sposata naturalmente perché io ho un sacro orrore delle prostitute quale piacere si può provare infatti ad andare con una donna che ha il duplice inconveniente di non appartenere a nessuno e di appartenere a tutti e poi a parte la morale non capisco davvero l'amore come fonte di guadagno mi disgusta un po è una debolezza lo so e lo confesso per uno scapolo avere come amante una donna maritata a questo soprattutto di piacevole che lei gli offre una casa una casa dolce confortevole in cui tutti lo curano e lo viziano dal marito fino ai domestici la trova tutti i piaceri riuniti l'amore l'amicizia perfino la paternità il letto e la tavola tutto ciò insomma che costituisce la felicità della vita con l'incalcolabile vantaggio di poter cambiare famiglia di tanto in tanto di sistemarsi di volta in volta la gente diversa l'estate in campagna presso l'operaio che ha affittato una camera in casa sua ed inverno in casa di un borghese o persino di un nobile che si hanno certe ambizioni o anche un altro debole quello di voler bene ai mariti delle mie amanti confesso perfino che certi mariti comuni e volgari mi allontanano dalle loro mogli per quanto seducenti possono essere ma quando il marito ha spirito e fascino divento senza dubbio innamorato pazzo se rompo con la moglie cerco di non rompere col marito così mi sono fatto i miei migliori amici in questo modo ho anche molte volte constatato l'incontestabile superiorità nella razza umana del maschio sulla femmina quest'ultima vi procura tutti i fastidi possibili vi fascinate rimprovi eccetera quello invece che avrebbe tutto il diritto di lamentarsi vi tratta come se foste l'angelo del focolare dunque avevo per amante una curiosa donnina una brunetta fantastica capricciosa devota superstiziosa redulona come un frate ma deliziosa aveva soprattutto una maniera di baciare che non ho mai ritrovato in nessun'altra ma non è il momento è una pelle così vellutata provavo un piacere infinito solo a tenerle le mani e degli occhi il suo sguardo passava su di me come una carezza lenta gustosa e senza fine spesso posavo la testa sulle sue ginocchia e restavo immobile lei china su di me con quel lieve sorriso fine enigmatico e conturbante che hanno le donne io con gli occhi alzati verso di lei a ricevere come un'ebbrezza dolcemente e deliziosamente versata nel mio cuore il suo sguardo limpido e azzurro chiaro come se fosse stato pieno di pensieri d'amore azzurro come se fosse stato un cielo pieno di delizie suo marito ispettore di un'importante amministrazione statale si assentava spesso lasciandoci trascorrere in tutta libertà le nostre serate talvolta le passavo da lei disteso sul divano con la fronte su una delle sue gambe mentre sull'altra dormiva un enorme gatto nero chiamato mizzi che lei adorava le nostre dita si incontravano sulla schiena nervosa della bestia e si accarezzavano fra il suo pelame serico sentivo contro la guancia il fianco caldo dell'animale e che fremeva in un eterno e a volte una zampa allungata posava sulla mia bocca o sulle mie palpebre cinque artigli aperti le cui punte mi pungevano gli occhi e subito si richiudevano a volte uscivamo per fare quelle che lei chiamava le nostre scappatelle erano del resto molto innocenti consistevano in una cena in qualche trattoria dei sobborghi oppure dopo aver cenato da lei o da me in un giro per i caffè malfamati come due studenti che vanno a farvi sboccia entravamo nelle bettole e andavamo a sederci in fondo al locale affumicato su due sedie traballanti davanti a una vecchia tavola di legno una nuvola di fumo acre ancora pregna dell'odore di pesce fritto della cena riempiva la sala gli uomini in camiciotto sbraitavano bevendo bicchierini di liquore e il cameriere stupito ci metteva davanti due ciliegie sotto spirito dai tremante spaurita e beata sollevava la veletta nera piegata in due fino alla punta del naso che la tratteneva per aria e cominciava a bere con la gioia che si prova nel commettere una piacevole scelleratezza ogni ciliezza che inghiottiva ne dava la sensazione di aver commesso una colpa ogni sorso del liquido forte scendeva in lei come un godimento delicato e proibito poi mi diceva sottovoce andiamocene e uscivamo lei fuggiva alla svelta a testa bassa a passi brevi in mezzo ai bevitori che la guardavano passare con aria seccata e quando ci ritrovavamo per la strada mandava un gran sospiro come se fossimo fuggiti a un terribile pericolo qualche volta mi chiedeva tremando se qualcuno mi insultasse in uno di quei posti di che cosa faresti con aria spavalda rispondevo ma ti difenderai perbacco e lei mi stringeva il braccio felice col desiderio confuso forse d'essere insultata e difesa vedere degli uomini battersi per lei anche se di quel tipo là con me una sera mentre eravamo seduti al tavolo d'una bettola di montmartre vedemmo entrare una vecchia cenciosa che teneva in mano un mazzo di carte sudice scorgendo una signora la vecchia si avvicinò subito a noi offrendosi di predire la buona sorte alla mia compagna emma che aveva l'animo sempre disposto ad ogni credulità era brividì di desiderio di inquietudine e fece posto accanto a sé alla cartomante l'altra vecchia rugosa con gli occhi cerchiati di carne viva e la bocca vuota senza neppure un dente dispose sulla tavola le carte sporche faceva dei mazzetti li riuniva sparpagliava di nuovo le carte murmurando parole incomprensibili emma pallida ascoltava aspettava col fiato sospeso fremendo d'angoscia e di curiosità la strega cominciò a parlare le predisse cose vaghe felicità e bambini un giovanotto biondo un viaggio denaro un processo un signore bruno il ritorno ad una persona un successo una morte l'annuncio di questa morte colpì la giovane donna la morte di chi quando come la vecchia rispondeva quanto a questo le carte non hanno abbastanza potere dovreste venire da me domani ve lo potrei dire col fondo di caffè che non inganna mai emma ansiosa si volse verso di me di vuoi che ci andiamo domani oh ti prego dimmi di sì altrimenti non può immaginare come rimarrai agitata mi misi a ridere ma certo tesoro ci andremo se ti fa piacere e la vecchia cidea del suo indirizzo abitava al sesto piano in un orrenda casa dietro le butte chaumont ci andammo l'indomani la stanza una soffitta con due sedie e un letto era piena di cose strane fasci di erbe appese a dei chiodi animali impagliati boccali e fiale piene di liquidi di diversi colori sulla tavola un gatto nero impagliato ci guardava con i suoi occhi di vetro pareva il demone di quel luogo sinistro emma vinta dall'emozione si sedette e subito disse oh caro guarda quel micino come la somiglia a mizi e spiegò alla vecchia che possedeva un gatto uguale ma proprio uguale la strega rispose gravemente se amate un uomo non dovete tenerlo emma presa dalla paura chiese perché la vecchia le si sedette confidenzialmente accanto e le prese la mano è stata la disgrazia della mia vita disse la mia amica volle sapere si strinse alla cartomante l'interrogò la pregò una simile credulità le faceva sorelle nel pensiero nel cuore la donna infine si decise quel gatto disse l'ho amato come si ama un fratello ero giovane allora completamente sola e facevo la sarta su commissione non avevo che lui morello me l'aveva regalato un inquilino e mi idolatrava signora cara mi idolatrava più di una madonna tutto il giorno sulle mie ginocchia fa rongron e tutta la notte sul mio cuscino sentivo abbattere il suo cuore sapete ora avvenne che feci la conoscenza ad un bravo ragazzo che lavorava in un negozio di biancheria andò avanti tre buoni mesi senza che gli avessi consentito nulla poi sapete si cede come accade a tutti e poi mi ero messa ad amarlo sul serio era così carino così carino e così buono voleva che mettessimo su casa insieme per economia infine una sera gli permisi di venire da me non che fossi decisa quella cosa o no ma mi faceva piacere l'idea di stare noi due un'ora insieme da principio fu molto corretto mi diceva tante cose dolci da far tremare il cuore e poi signora ma baciata baciata come si bacia quando si ama io avevo chiuso gli occhi e me ne stavo lì colta da un crampo di felicità ma all'improvviso lo sento fare un gran movimento e lanciare un grido un urlo che non scorderò mai apro gli occhi e vedo che morello gli era saltato sul viso gli strappava la pelle a furia di graffi come se fosse stato un cencio e il sangue colava signora come una pioggia voglia ciuffare il gatto ma lui resisteva continuando a graffiare e mi ordeva tanto era fuori di sé finalmente lo afferro e lo getto dalla finestra aperta perché era estate quando cominciai a lavare il viso del mio povero amico mi accorsi che gli aveva cavato gli occhi tutti e due dovette entrare all'ospizio di lì a un anno morì di disperazione io volevo tenerlo con me e mantenerlo ma non volle e sarebbe detto che mi odiasse dopo il fatto quanto a morello si era rotto le reni nella caduta il portinaio lo aveva raccolto morto l'ho fatto imbalsamare visto che nonostante tutto avevo ancora dell'attaccamento per lui se aveva fatto questo era perché mamava non è vero la vecchia tacque e con la mano accarezzò la bestia inanimata la cui carcassa traballò sullo scheletro di fil di ferro emma quel cuore stretto aveva dimenticato la morte predetta o perlomeno non ne parlo più e uscì dopo aver dato cinque franchi suo marito tornava l'indomani perciò stetti qualche giorno senza andare da lei quando vi tornai mi stupì di non vedere mizi chiesi dove fosse e la rossia rispose l'ho regalato non ero tranquilla rimasi sorpreso non eri tranquilla per quale ragione mi abbracciò lungamente e a bassa voce ho avuto paura per i tuoi occhi tesoro grazie a tutti